Casual, a modo mio Maglioncino giro collo misto Kashmir Color salvia Denim sartoriale Cintura treccia nera ultra sottile Bomberino in denim abbinato al pantalone Per l'orologio Omega Deville Vintage in oro Dettagli maniacali Occhiali neri con lente trasparente fatti a mano in Italia Coordinato in denim sportivo favoloso E ancora una volta permette di separare gli uomini dai ragazzini